Il teatro reggio di Parma fu costruito per volere della duchessa Maria Luigia, quindi non dovrebbe sorprendere che in questo posto sia raffigurata dappertutto. La possiamo vedere sulla volta del ridotto nelle vesti di armonia, mentre sul sipario originale indossa i panni di Minerva nel dipinto intitolato Il trionfo della sapienza. In anni più recenti il teatro è stato immortalato nel film opera Un horror di Dario Argento. In passato invece si è esibito qui Paganini, Toscanini vi suonò da ragazzino e Verdi, che aveva con Parma un rapporto un po' difficile, si presentò qui probabilmente più per corteggiare la soprano Giuseppina Strepponi che per altri motivi. Dopotutto si sa, tira più la Giuseppina che un caro di buoi.